Musica Buonasera dalla redazione di TG Treviso, in questa edizione domenicale del nostro telegiornale ripercorriamo i principali fatti di cronaca e i temi che hanno caratterizzato questa settimana. L'aspettativa di vita dei bambini di oggi è inferiore di 5 anni rispetto a quella dei loro genitori, colpa dell'alimentazione sbagliata e dell'attività fisica sempre più ridotta. Nel solo territorio dell'Ulss 9 è in sovrappeso il 30% dei bambini, solo l'1% mangia la necessaria quantità di frutta e verdura, contro il 27% che assume regolarmente bevande zuccherate. Non che gli adulti diano il buon esempio, tra Treviso e l'Opitergino-Mottense sono 110.000 quelli con chili di troppo, ben 22.000 gli obesi. Azienda sanitaria, commercianti e artigiani si sono messi insieme per promuovere la diffusione di merende sane per i più piccoli a un costo contenuto, solo 30 centesimi acquistabili in panifici e ortofrutta. Abbiamo 33 comuni su 37 che hanno aderito, sono circa un centinaio di esercizi al momento, ma prevediamo che se ne aggiungano molti altri. Lo scopo è creare un cambiamento di cultura all'interno delle nostre giovani generazioni. I nostri bambini sono quelli che sono più a rischio di vivere meno dei loro genitori e dei loro nonni, quindi è assolutamente indispensabile cambiare cultura, soprattutto in questo caso la cultura alimentare. I nostri bambini mangiano male, mangiano troppo, ma soprattutto mangiano male, per cui al di là di essere sovrappeso o obeso potranno avere con il tempo problemi di salute legati alla scorretta alimentazione, che usano cibi troppo calorici, ricchi di zuccheri e ricchi di sale, e mangiano poca frutta e verdura. La merenda non entra a scuola, ma rimane in negozio, perché, dicono gli specialisti, resta fondamentale la scelta dei genitori. Sì, è importante che i genitori sappiano scegliere per la salute dei loro figli. Questo è fondamentale ed importante. Nessuno si può sostituire alle loro scelte. I bambini saranno sani in un futuro se loro li aiuteranno a essere sani. Noi è già da otto mesi che stiamo facendo e monitorando tutto quel tratto davanti, praticamente il tratto davanti alla scuola di Canizzano. E sappiamo di questo problema. I nostri tecnici stanno già portando avanti i progetti per tre rallentatori, che avranno due step. Uno un attimo più leggero, con dei rallentatori classici, quelli di plastica, e poi faremo dei lavori puntuali, tipo quello che abbiamo fatto anche in Viale Cesare Battisti. Per cui siamo tranquilli, stiamo andando avanti, siamo a conoscenza di questo problema e lo finiremo entro questa estate. Ringraziamo anche questi consiglieri che sono sempre sul pezzo e ci fa anche piacere. Comunque noi eravamo già lì da un po' di tempo. Non voglio stare qui a polemizzare. Diciamo così che loro danno un ottimo contributo a osservare il territorio e noi saremo sempre e cercheremo anche di anticiparli come abbiamo fatto in questa occasione. È la supplente di cui tutta Treviso parla. Le sue foto hot pubblicate in rete hanno fatto il giro di tutte le scuole, compresa quella dove ora ha un incarico temporaneo. E dopo l'iniziale Tam Tam via web, la notizia è diventata di dominio pubblico, al punto che il caso è finito sulla scrivania del provveditore provinciale agli studi, che valuta la questione così. Non credo che ci sia né un atteggiamento possibile in questo momento da parte nostra di tipo così di giudice, neanche di tipo, non so, di moralistico. Da canto suo lei, la supplente, si smarca dicendo che è stato un errore di gioventù e che le dispiacerebbe venisse valutata soltanto per quegli scatti. Ama il suo lavoro e vuole continuare ad insegnare. Le foto, dice, risalirebbero a 15 anni fa. Se una persona si fa fotografare e si è fatta fotografare come questa docente quando era una ragazza, tra l'altro una studentessa universitaria, a distanza di tutti questi anni che non c'è un rapporto diretto tra le sue possibilità di fare l'insegnante e quelle foto. Dunque, valutata esclusivamente per le sue capacità di insegnante, finirà la supplenza prevista fino a metà settimana corrente. Dello stesso parere del provveditore anche alcuni studenti. È più un danno all'immagine perché una persona quando ha un ruolo di un certo tipo deve anche mantenere una sua immagine, una sua credibilità. Mi sono fatto un'idea che, più che altro sentendo i commenti degli altri, che è una brava insegnante, che sa insegnare bene, sa fare il suo lavoro. Al di fuori della scuola siano a fare i suoi, quindi che faccia quello che vuole. È una brava insegnante e comunque quello che è successo è una cosa passata e quindi secondo me non dovrebbe poi pesare tanto sul suo lavoro, perché comunque è una brava insegnante. Sembra evidente che per l'insegnante e per le sue attuali attività professionali di docente da questa vicenda scatturisca un danno d'immagine. 200 bambini non vedenti e sordi nella marca, per il migliaio presenti in tutto il Veneto. Per loro il prossimo anno scolastico la scuola potrebbe essere a rischio perché con la riforma delle province sono state tagliate le competenze e venuti meno i fondi per gli insegnanti di sostegno e in generale per il materiale didattico speciale necessario anche per chi frequenta le scuole dell'obbligo. Cosa vuol dire? Per i ciechi e gli ipovedenti, cioè quelli che hanno un residuo visivo minore, significa che avevano diritto ai libri stampati in braille o a caratteri ingranditi e al supporto di un operatore che andava a scuola o a casa per aiutarli nel disbrigo dei compiti. E per i sordi la presenza di un operatore che aiutasse loro a comprendere le consegne, traducesse le consegne in lis e quindi stiamo sostanzialmente rischiando la chiusura di questo servizio. Domani manifestazione di protesta a Venezia di tutte le sezioni provinciali venete dell'Unione Italiana Ciechi e ipovedenti del Veneto. L'Unione Ciechi con altre associazioni che si occupano di disabilità hanno indetto una manifestazione di protesta che partirà alle ore 10 dalla stazione di Venezia Santa Lucia e cercheremo di farci ricevere dagli assessori e da consiglieri regionali. Ausili che vengono chieste alla Regione a garanzia del prossimo anno scolastico con risorse adeguate nel bilancio di previsione regionale in discussione appunto nel Consiglio regionale di domani. A metà tra provocazione e proposta ecco come porre rimedio al sovrannumero di nutrii presenti nella marca. Per l'assessore provinciale Mirko Lorenzon che le equipara come carne a lepri e conigli andrebbero mangiate. C'è tanta prevenzione verso la nutria perché la nutria somiglia logico a un topo però la nutria fa parte della famiglia dei riduttori, è come un coniglio, come una lepre. Dopo aver chiesto al prefetto un'ordinanza per l'abbattimento dei riduttori che avrebbero colonizzato anche fossi, fiumi e canali, ora l'ultima butade. Preparare un pranzo a base di nutrii equivalenti, dice Lorenzon, a proteine a chilometro zero dal Monticano fino a Lia. È un animale che si nutre senz'altro e si nutre solo di erba, quindi è un erbivro, quindi ha una nutrizione perfetta. Le carni sono eccellenti per chi le ha mangiate anche nella ristorazione del nord Europa oppure nella ristorazione in America, negli Stati Uniti, oppure nei paesi in Brasile dove si mangia tranquillamente e quindi ha elevate proprietà nutrizionali, ottima per la dieta. Non l'hai mai mangiato una nutria? No, non l'hai mai mangiata, mi hanno invitato, ciò che ci sono anche nella parte del Veneziano ma anche del Trevisiano, chi le mangia. Accetterà questo invito e mangerà la nutria? Se mi invitano sì. Cosa pensa del fatto che Magro abbia preso il fucile e si sia messo a sparare per far scappare ladri? È stato un grande, è stato un grande, sì. Dovremmo tutti fare così, a questo punto sì, tutti fare così. La difesa, tra virgolette, anche dell'arma si starà perché sento che tutti quanti stanno correndo al poligono. Solidarietà di tutto il borgo di via Bidoggio e Gambero, a Fedio Derzio, a Sandro Magro, l'imprenditore che rischia di essere denunciato per aver imbracciato il fucile e sparato in aria per scacciare i ladri e andare in soccorso della vicina di casa. Ora lui si è infagotato, lui era tutto fatto su così, è stato donato, sapeva se era una persona, se era un animale, cosa che era, perché lui si è tutto, era nicchiato così. Dopo che è passato tutto, mi ha restato il terrore e la paura. È rimasto quel terrore e quella paura? Ti resta sì, ti resta perché ti dice non so neanche parola di stare qua a casa mia, che non aveva fatto male a nessuno, sono qua, e non ho già avuto tante rogne. I ladri, fuggiti tra i vigneti nella nebbia, nell'arco di un'ora tra le 20.15 e le 21.30 lunedì sera, hanno cercato di entrare in ben quattro abitazioni, a farli desistere alla fine soltanto i colpi del fucile da caccia sparati dall'imprenditore che ora rischia di dover rispondere del reato penale per esplosioni pericolose. Non è giusto, non è giusto, perché bisogna che ci difendiamo in questa maniera, cosa possiamo fare? Per il governatore Locazzaia è necessaria una riforma della giustizia. Il Parlamento invece di dire che va tutto bene, prenda il governo e il governo decida di fare leggi severe. Per i residenti del borgo, per mettersi al sicuro, l'unica via di salvezza è armarsi contro la criminalità. O tu che sei a casa tua o l'altro che è un intruso e ti sta rubando la vita a certe volte, perché vorrei chiedere a Pellicciardi cosa ne pensa ancora dopo tanti anni, di come sono morti i genitori. Sicurezza. La giunta di Cassugana annuncia l'imminente presentazione del progetto, mutuato dal comune di Lucca, di controllo del vicinato. Cittadini in collegamento con le forze dell'ordine, incaricati di dare segnalazioni immediate di movimenti sospetti, se non addirittura reati appena compiuti. Non riteniamo che ci sia bisogno invece di coinvolgere i cittadini, ma coinvolgerli seriamente. In questo senso il nostro progetto prevede un'approvazione e un controllo anche da parte della prefettura per rendere appunto questo tipo di servizio da parte dei cittadini, oltre che tempestivo, anche legittimato ed efficace. Il progetto andrà in giunta per l'approvazione la prossima settimana. Il nostro compito è quello di cercare di ridurre sempre di più il fenomeno dei reati, dei furti, delle rapine, delle aggressioni. In questo senso, essendo immaginabile di poter adottare ogni famiglia di un vigile o di un rappresentante della forza dell'ordine, è necessario davvero coinvolgere i cittadini. Coinvolgere i residenti in maniera coordinata e soprattutto legale. Niente ronde, niente giustizia fai da te, niente ladri rincorsi con mestoli e chiavi inglesi. Prudenza dà la giunta anche sull'idea di Santa Bona di pagare un vigilante privato. Non vorremmo che si creassero delle false illusioni nei cittadini. Il vigilante non ha la possibilità di intervenire e di agire come un agente di polizia locale o della polizia di Stato o come un carabinieri. E quindi bisogna capire fino in fondo che cosa può fare, soprattutto i cittadini, che cosa si attendono eventualmente dal servizio svolto da un vigilante. Signora, qua troviamo il pane in attesa. Certo, dei clienti l'hanno pagato e lasciato per le persone più bisognose. Questo è quello di stamattina, un sacchetto è già stato ritirato, ma abbiamo messo anche ieri, anche ieri i due sacchetti messi sono stati ritirati da persone bisognose. Dopo il caffè sospeso napoletano arriva a Treviso il pane in attesa. Aderire all'iniziativa di solidarietà è semplice. I clienti che entrano nelle panetterie aderenti all'iniziativa possono comprare del pane in più e metterlo nelle ceste. Il pane rimane così sospeso in attesa di essere ritirato da chi ne avesse bisogno. Sono molte le persone in difficoltà che si rivolgono ai panificatori chiedendo di essere aiutate, soprattutto famiglie numerose e pensionati. Delle famiglie che sono sempre state nostri clienti, hanno sempre frequentato il nostro panificio, che hanno marito e moglie che prima lavoravano e magari hanno anche due o tre figli, adesso non lavorano più e viene spontaneo che quando vengono gli diamo volentieri del pane. L'iniziativa nata dall'idea di un gruppo di studenti di psicologia parte da Treviso, ma l'auspicio è che si allarghi a tutta la provincia. Non solo, la logica di pane in attesa ha già conquistato l'attenzione di altre categorie. Anche al mio panificio c'è un fruttivendolo e anche lui è rimasto colpito da questa iniziativa e ha detto potrei partecipare anch'io con la frutta e verdura perché anche lui sente e è vicino, come tutti i negozi, è vicinato ai bisogni delle famiglie. Purtroppo chissà andrà come andrà, non posso dire altro. Perché piange? Non pensavo venisse fuori una cosa di questo genere, televisione. Piange, ha i nervi e fior di pelle. Non si aspettava tanto trambusse e clamore attorno a sé Sandro Magro. L'imprenditore 48enne di Faido e Derzo, che lunedì per mettere in fuga i ladri che stavano staccheggiando la zona in cui vive, ha sparato alcuni colpi di fucile in aria. Ho preso il fucile e ho sparato dentro la camera, che ero in camera, fuori per la finestra, ho sparato due colpi di fucile. Arma detenuta regolarmente, sebbene con licenza per uso sportivo scaduta e che ora potrebbe venirgli sequestrata anche in via cautelativa. Che me l'aveva regalata mia zia, è morto lo zio e ha detto Sandro se la vuoi te la do a te. Storia che seconda delle valutazioni della procura che ha aperto un'indagine potrebbe concludersi con un'ammenda di 103 euro per il reato di esplosioni pericolose. Nonostante la licenza di porto d'armi fosse scaduta, stando però alla legge, Magro poteva utilizzare i fucili per legittima difesa. Un decreto ministeriale ha stabilito che entro maggio di quest'anno tutti quelli che hanno un'arma a casa, che comunque detengono un'arma e non siano già possessori di un altro titolo di polizia, porto d'arma, licenza di caccia, devono produrre un certificato medico presso l'ufficio di polizia o dei carabinieri dove hanno denunciato l'arma a suo tempo dopo che l'hanno comprata. Questo è molto importante perché serve per poter acquisire l'idoneità psicofisica di tutti quelli che detengono arma. Lei rifarebbe la stessa cosa? Sparerebbe ancora in aria? Io credo di sì, credo di sì perché è l'unico modo di farsi sentire, di far intimidire queste persone e non voglio uccidere. Un giro d'affari milionario basato sull'utilizzo di bolle doganali alterate e di timbri contraffatti, false certificazioni prodotte ad hoc da una famiglia trevigiana ed utilizzate per importare auto di lusso dalla Svizzera evadendo le imposte. Ecco il video diffuso dalla Guardia di Finanza che immortala la produzione casalinga di documenti attestanti l'avvenuto pagamento dei diritti di confine e dell'IVA. La famiglia era parte integrante dell'associazione e si occupava soprattutto del recupero delle autovetture all'estero e della produzione delle bolle doganali false. L'operazione denominata Checkpoint ha scominato un'organizzazione operante nel commercio intracomunitario di autovetture di lusso, BMW, Audi, persino Bentley. 130 ai veicoli immatricolati attraverso fittizie intestazioni e poi rivenduti sul mercato nazionale in totale evasione di IVA. 15 le persone coinvolte nel giro, 8 i soggetti agli arresti domiciliari, sequestri per oltre un milione di euro. Ha portato all'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanto sodali e al sequestro preventivo finalizzato dalla confisca per equivalente di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro. L'operazione è stata condotta dalle fiamme gialle di Treviso in collaborazione con la Polizia Stradale di Vicenza. Il controllo è avvenuto documentalmente, nel senso che nello svolgimento di attività istituzionali presso alcune motorizzazioni del nord Italia ci siamo avveduti flussi di nazionalizzazioni di veicoli esteri di volume non apparentemente ingiustificato in relazione all'ufficio nel quale venivano presentate. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite oltre che nella provincia di Treviso, a Venezia, a Verona, a Pordenone, Brescia e Cremona. Sindacati critici apprezzano il bel gesto ma non credono sia una strada da battere e fa discutere l'iniziativa dell'imprenditore o pitergino Lauro Buoro di voler destinare ai dipendenti con gli stipendi più bassi il suo premio di produzione, 800 euro ciascuno, a beneficiarne una cinquantina dei 250 dipendenti dell'azienda di Rustignè specializzata in home automation. La scelta è caduta sul personale assunto da almeno un anno con la paga più ridotta, ma anche su quei dipendenti che hanno i carichi familiari più gravosi. La sua decisione Buoro l'ha annunciata al Consiglio di Amministrazione a fine febbraio e sarà proprio nella busta a paga di febbraio che arriverà il bonus. È un piccolo ma importante segno concreto, ha detto Buoro, di supporto e riconoscimento fattivo ai nostri collaboratori e alle loro famiglie. Anche a Natale in azienda è ormai consuetudine distribuire ai lavoratori un buono spesa da 100 o 150 euro. In questo caso però la redistribuzione del premio, spettante al titolare e amministratore del gruppo, avverrà in base a una scelta soggettiva, maturata, dice il diretto interessato, analizzando con grande attenzione i singoli casi e scegliendo quelli più svantaggiati. Bravo ma non è questa la strada giusta, commenta Franco Lorenzon della CISL, serve giustizia, non carità. Dello stesso avviso Giacomo Vendrame della CGL, al di là del bel gesto non si può prescindere dal criterio dell'equità. Lo stipendio è qualcosa che il lavoratore si guadagna, non un regalo o una mancia. Ecco dunque quello che è successo di più rilevante questa settimana. Io vi do appuntamento naturalmente a domani. Intanto una buona serata con la programmazione di Rete Veneta. Arrivederci.